E' il ponte che tu conosci molto molto bene, poi ti faccio vedere che qua ci sono un po' di amici con me che sono venuti, parlamentari, candidati che ti sostengono in questa corsa in regione, finitela di tirarmi in giro per, scusate che mi stanno perseguitando qua tirandomi per la giacca. Stavo dicendo agli amici che ci seguono sulla diretta che questo ponte è il simbolo di molte cose che non vanno nel nostro paese, l'incapacità sicuramente di reagire del governo romano, ricordo molto banalmente, lo ricordo a me stesso che quasi nello stesso tempo con cui qua non sono state tolte le macerie che sono qua alle mie spalle, noi abbiamo ricostruito la strada per Portofino, abbiamo spostato le macerie del ponte Morandi che era ben altra cosa, con ben altra situazione, che qui è stato nominato un commissario che è l'attuale Presidente della regione toscana, che tra poco finirà il mandato e hanno nominato addirittura un sottocommissario in Liguria di un comune qua vicino che ha l'unico merito di essere un comune del PD, l'unico che hanno trovato, anche se non c'entra assolutamente niente. Allora, io sono venuto qua e ti ho voluto videochiamare, so che hai un impegno a Firenze e non potevi se no saresti stata qua con noi, perché noi tutti facciamo il tifo, perché ovviamente di qua a quattro giorni ci sia un altro Presidente della regione toscana che adesso è collegato con me in questa diretta Instagram e quindi finalmente si possa cominciare a lavorare per togliere le macerie di questo ponte, ricostruirlo, che non mi sembra neanche visto quello che abbiamo fatto una cosa particolarmente complicata, ma poi ne abbiamo di cose da fare insieme dai porti alla nostra costa, tutto il confine di questa valle che è parte Toscana e parte Liguria, insomma abbiamo da rimediare a tutto quello che non hanno fatto gli altri in tutto questo tempo. Allora Giovanni, sì, io avrei voluto tanto essere lì, ma oggi mi avevano programmato tra poco un dibattito da campagna elettorale con i miei avversari, anche se in questa campagna elettorale toscana ce ne sono stati pochi di dibattiti, di confronti, perché l'avversario del PD scappava ad ogni confronto. E si vede che non aveva molto da dire. Però oggi purtroppo non sono potuta essere lì, ma ci sono stata diverse volte a fare sopralluoghi ad Albiano Magra, anche con alcuni parlamentari liguri che oggi sono lì con te, ho parlato con il sindaco di Aulla e cinque mesi fa, quando cadde il ponte, fortunatamente non ci furono vittime cinque mesi fa quando cadde il ponte, perché eravamo in pieno lockdown e ci sono stati fino a pochi giorni fa due camioncini. Locca, la nostra amica. Io ti sento e ti vedo. Eravamo in pieno lockdown, sì, 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 ogni tanto quando... Intanto ti vedo benissimo, Giovanni. Ti sento a casa, poi evidentemente il segnale è così così. Insieme al sindaco di Aulla, colore politico. Però evidentemente è una persona di buon senso, chiedemmo al governo di nominare il prima possibile un commissario straordinario, addirittura noi chiedevamo i pieni poteri per ricostruire in fretta, sul modello Genova, come ha fatto il nostro sindaco di Genova, Marco Gucci, il ponte. Peraltro il ponte di Albiano Magra non è paragonabile al ponte Morandi, perché chiaramente il ponte di Albiano Magra è un ponte per la cui ricostruzione servirebbero soltanto 4-5 milioni di Euro, il ponte di Genova invece sono stati impiegati più di 200 milioni di Euro, quindi una ricostruzione sicuramente è una portata diversa. Il ministro De Micheli ha temporeggiato e temporeggiato prima di nominare ufficialmente il commissario, poi hanno deciso di nominare Enrico Rossi, il presidente uscente di regione e nonostante fosse di diverso colore politico all'epoca noi avevamo detto molto chiaramente chiunque sia anche di diverso colore politico ma che faccia le cose in fretta, come tu vedi alle tue spalle, il ponte è ancora lì, non hanno tolto neanche i dettagli. Direi che qualsiasi fosse il colore politico la certezza è che non ha fatto le cose in fretta. Ecco, esatto, quello è certificato perché basta che ti volti e lo vedi dalla diretta, il ponte crollato è ancora lì e intasa il fiume… Lo vediamo qua alle nostre spalle, guarda ci sono anche le materie. Ma… La preoccupazione dei residenti, dei cittadini, Liguri e Toscani è quella che con le prossime piogge e i detriti ancora lì si possa verificare… Non la sentite la Susanna, perché non la sto sentendo? Io credo che ti senta però… Sì, se ti si sente, ti si sente, sono io che talvolta non ti sento, pare. La preoccupazione, dicevo, è che con i detriti… Quindi, stiamo ancora una volta a chiedere al commissario innanzitutto di chiamare la magistratura e far rimuovere i detriti e di muoversi, perché di parola al vento i Toscani e i Liguri non ne possono più. Fortunatamente, tra poco ci sono le elezioni e inizieremo a collaborare e a processare, non solo la ricostruzione di quel ponte, ma tante altre opere che servono alla Toscana e alla Liguria, come la linea veloce sulla nostra costa per Roma. Fortunatamente, tra poco ci sono le elezioni e inizieremo a collaborare e a processare, non solo la ricostruzione di quel ponte, ma tante altre opere che servono alla Liguria. Fortunatamente, tra poco ci sono le elezioni e inizieremo a collaborare e a processare, non solo la ricostruzione di quel ponte. Buonasera, ciao. Allora, siccome io ho un problema qua ad ascoltarti, se no diventa… Facciamo così, ci promettiamo che non appena hai vinto in Toscana, quindi lunedì sera ci telefoniamo, prendiamo l'agenda, fissiamo un incontro e organizziamo come risolvere questo problema del ponte d'Albiana e quello lo facciamo rapidamente perché sono sicuro che abbiamo sia la capacità che la volontà di risolvere tutto il problema e lo faremo già nei primissimi mesi del tuo mandato, mettendo a disposizione anche tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in Liguria a fare queste cose. Dopodiché parliamo di ferrovie, parliamo della linea veloce per Roma, parliamo dei nostri porti, da Livorno a quello di Vado Ligure, che sono il primo sistema portuale del Mediterraneo che deve collaborare sempre di più. Parliamo del nostro confine in comune della Lunigiana, parliamo della Pontremolese che riguarda tutti. Insomma, abbiamo una fitta agenda, ora tu vai, come si dice in questo avversario nel tuo prossimo duello che avete, l'ultimo che vi vede confrontati. Noi dalla Liguria sai che ti fiamo per te, qua ci sono tanti candidati della tua civica pronti a lavorare la settimana per darti una mano e poi noi ci vediamo subito dopo, io ti abbraccio e ti auguro in bocca al lupo fortissimo perché ce la stai mettendo tutta e sono sicuro che i toscani te lo riconosceranno. Grazie Giovanni, non vedo l'ora di collaborare con te, tra l'altro ricordiamo che tra le liste che mi sostengono c'è anche Toscana Civica per il cambiamento, in cui hanno partecipato tanti i tuoi supporter qui in Toscana, e quindi non vedo l'ora di iniziare a progettare insieme a te il futuro dei nostri bellissimi territori. Ci vediamo qua sul confine Susanna, martedì a festeggiare la vittoria di due regioni che si riuniscono sotto una buona e solida situazione. Un bacio e un abbraccio da tutti, salutate Susanna. Ciao amici, a presto.